E' di cinque feriti, tra cui una poliziotta in gravi condizioni, il bilancio di una sparatoria avvenuta alla stazione ferroviaria di Monaco di Baviera, in Germania. Secondo le prime notizie, la sparatoria sarebbe avvenuta in seguito a un controllo di un sospetto da parte di una pattuglia della polizia. L'agente ferita è stata colpita la testa, mentre altre tre persone sono state raggiunte da proiettili vaganti. Ferito anche l'aggressore, che ha agito da solo ed è stato immediatamente arrestato. La stazione è stata evacuata, ma la situazione è sotto controllo e sono stati dispiegati in genti forze dell'ordine e un elicottero per presidiare la zona. Gli inquirenti hanno comunque escluso la pista terroristica e hanno spiegato che l'unico assalitore è stato guidato da ragioni personali, senza moventi politici o religiosi.